ciao a tutti collezionisti e collezioniste benvenuti su lele king tv il canale a voi dedicato collezionisti di calciatori panini e non soltanto questo oggi andremo a fare il ce lo mi manca con queste figurine dell'album calciatori 2021 2022 mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate like questo video è tutto completamente gratuito per quanto riguarda queste cose e potete supportare il canale a portare altri contenuti quindi fatelo perché ancora il 60 70 per cento ancora di voi torna a vedere i video ma non è iscritto al canale non si sa per quale motivo ragazzi perché se vi iscrivete al canale vi arriva anche la notifica per non perdervi i prossimi video visto che li andate a cercare andate a vedere non vedo perché non iscriversi al canale detto questo ragazzi vi vido anche a seguirmi su instagram e su tiktok iniziamo subito la prima figurina che è la figurina numero 4 della supercoppa italiana che come vedete ce l'abbiamo e quindi iniziamo con un doppione poi andiamo all'atalanta con la figurina numero 30 e ce l'abbiamo che è piccoli poi il bologna con la figurina numero 47 e ce l'abbiamo anche questa quindi anche questo è doppione poi andiamo a cagliari con casares con la figurina numero 66 casares ci manca che va qui e quindi lui lo attacchiamo sul nostro album casares ex giocatore di juventus lazio con chi altro ha giocato nel campione italiano vale basta no juventus no pure col verona vero col verona va fiorentina con la lazio ok giocato anche nel barcellona casares giocatore d'esperienza e poi abbiamo del cagliari la figurina numero 75 che è marin che c'è eccolo qui marin quindi niente poi con l'empoli abbiamo la figurina numero 95 ce l'abbiamo anche questa zurkovischi giocatore polacco poi andiamo alla fiorentina abbiamo la 116 che è la formazione e questa ci manca la formazione della fiorentina poi del genoa abbiamo la 139 sabelli eccolo si manca a stare qui sabelli poi dell'ellas abbiamo la 176 che è barack e anche questa ci manca che va qui sotto poi abbiamo la 187 che è lo stemma dell'inter e ce l'abbiamo anche questa della juventus troviamo il secondo portiere col 215 mattia per in e ce l'abbiamo della lazio troviamo sarri l'allenatore ex napoli e ci manca sarri col 244 poi andiamo al milan con lo stemma 265 che ce l'abbiamo poi abbiamo rebic col 287 rebic anche ce l'abbiamo quindi niente di fatto andiamo alla napoli con la figurina numero 308 figurina 308 che ce l'abbiamo andiamo alla roma con spinazzola 328 speriamo che rientri presto spinazzola che si è fatto male nella nazionale a euro 2020 e ancora non è rientrato spinazzola poi della sampa abbiamo la 372 ci manca la 372 poi con il sassuolo abbiamo la 396 che consigli che ce l'abbiamo poi abbiamo la 415 che è fra botta che ce l'abbiamo che ce l'abbiamo fra botta frattesi scusate poi dello spezia abbiamo la 443 che ce l'abbiamo poi del salernitana la 466 che è la maglia della salernitana del torino buonanotte ragazzi oggi non c'è pio non c'è pio proprio oggi del torino ce l'abbiamo poi dell'utinese abbiamo la figurina numero 491 e ce l'abbiamo anche questa poi del venezia abbiamo la 512 eccola qua altro doppione andiamo al firma del campionato con la c1 aspetta stanno prima gli avatar e l'avatar ce l'abbiamo uno che è la 12 che ci manca è quello del napoli poi abbiamo la c1 ci manca eccola qui gli scrignar e poi abbiamo la 574 547 che è della Samp con Audero top performance e del sassuolo Berardi poi andiamo all'ascoli col 570 bene ci manca 570 dell'ascoli ancora non abbiamo completato nessuna squadra su questo album secondario diciamo così e poi il Cittadella col 591 ce l'abbiamo il Cosenza con la 607 ce l'abbiamo eccola qui ok poi del Perugia abbiamo la 663 e ci manca questa la 663 ci manca del Perugia e poi abbiamo la 689 della spalla anche questa è una mancante ok ragazzi per questo video è tutto io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti